Non si può dire nulla ai ragazzi perché è stata un'ottima gara. Penso che comunque anche il primo tempo è avuto 4-5 occasioni. Se fai gol magari con Zerbin all'inizio, abbiamo avuto due pali di gol con Zerbin, con Butic, con Rosaglia. Penso comunque alla squadra non si può dire nulla, l'atteggiamento è giusto. Comunque abbiamo giocato con una squadra che è seconda in classifica, penso che abbiamo giocato solo noi. Sì, ripeto, alla prima occasione abbiamo preso questo gol e purtroppo non ci si può fare niente. Bisogna continuare a lavorare e ora andiamo a Trieste contro la Trestina più carichi di prima. Questo è andato di fatto, questa è la realtà. Dobbiamo prenderne atto, rimanere concentrati e compatti perché il campionato è lungo. Non siamo partiti bene questo 2020 ma io vedo una squadra viva, vedo un gruppo sano, solido. Sicuramente c'è tanta voglia di rivalsa, dobbiamo rimanere uniti con tanta fame e portare in campo domenica a Trieste l'arrabbiatura che ci rimane da questa sconfitta.